La tua pompa di calore consuma troppo? Beh, oggi vedremo come abbassare i consumi elettrici della tua pompa di calore senza mettere mano all'impianto. E se vuoi rimanere aggiornato sul mondo delle pompe di calore, beh, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Eccoci qui, allora siamo in pieno inverno e non passa giorno che famiglie mi scrivono come posso abbassare il consumo della pompa di calore mantenendo naturalmente il comfort in casa. Parlo di famiglie che hanno installato già una pompa di calore di qualsiasi marca e che mi scrivono in cerca di un aiuto, di una consulenza, di un supporto perché magari si sono trovati anche da soli e non affiancati a qualcuno che li possa accompagnare in questo percorso. Beh, prima di iniziare lascia che mi presenti, io sono Samuele Trento, sono un ingegnere meccanico e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche eliminando quindi il contatore del gas. Non lo faccio io direttamente ma attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro. E se stai guardando questo video e anche tu vuoi smettere per sempre di pagare la bolletta del gas, beh, vai nel link qui sotto. Torniamo all'argomento di oggi. Come abbassare i consumi? Allora, una premessa fondamentale tecnica, spero che tu riesca a seguirlo. Il COP di una pompa di calore, quindi le prestazioni di una pompa di calore, aumenta all'aumentare della temperatura esterna, dove la pompa di calore aria-acqua è installata. Quindi cosa significa, tradotto in parole semplici, più caldo fa fuori, più il COP sale. Più il COP sale significa che meno consuma. Quindi più caldo abbiamo all'esterno e meno consuma la pompa di calore. Questo è il primo fondamentale. Il secondo fondamentale è che all'aumentare della temperatura dimandata dell'impianto si abbassa il COP. Cosa significa? Che più chiedo alla pompa di calore di riscaldare acqua ad alta temperatura, più il COP si abbassa e cioè più consuma. Quindi più si alza la temperatura dimandata all'impianto e più consuma. Ecco, questi sono due fondamentali che ti serviranno per seguirmi nel video di oggi. La domanda allora a cui daremo risposta oggi è conviene di più far lavorare la pompa di calore quando fuori abbiamo temperature più alte, quindi quando fuori fa più caldo, oppure conviene far lavorare la pompa di calore a temperature di mandata inferiori, cioè con temperature dell'impianto più basse. Parlo naturalmente delle temperature dell'acqua dell'impianto, non temperature ambienti, che diamo per scontato fisse. Cioè questa domanda vale mantenendo lo stesso comfort in casa. Prima però di dare risposta facciamo un passetto indietro. Primo, che aspettative avevi sulla pompa di calore? Ovvero chi ti ha proposto la pompa di calore? Chi ti ha venduto la pompa di calore? Chi ti ha installato la pompa di calore? Cosa ti ha promesso? O soprattutto tu che aspettative ti sei fatto? Speravi di scaldare casa gratis? Oppure sapevi quanto era il risparmio? Ti hanno fatto una simulazione dei consumi prima di installare una pompa di calore? Cioè ti hanno dato una prospettiva di quelli che sarebbero stati i tuoi consumi? Ecco questo è fondamentale perché diverse famiglie mi contattano dicendo che consumo troppo, ma consumo troppo rispetto a cosa? Rispetto alla tua aspettativa. Quindi è essenziale definire qual era la tua aspettativa. Altra cosa da prendere in considerazione, le prestazioni reali della pompa di calore. Quindi non tanto le schede tecniche che in alcuni casi abbiamo notato non sono proprio coincidenti con la realtà, ma la tua pompa di calore rende veramente quanto è stato dichiarato dal produttore? Oppure hai acquistato una pompa di calore senza valutarne bene le prestazioni? Ho già fatto un video su questo, la fregatura della pompa di calore perché se installi una pompa di calore non performante potresti trovarti a consumare di più rispetto a prima e quindi non è un investimento. È solo una spesa continua da parte del tuo conto corrente. E il terzo parametro è se stai riscaldando casa a radiatori e questi sono sottodimensionati, cioè nessuno ti ha fatto una verifica che i radiatori potevano lavorare bene a 50-55 gradi, ma in realtà per poter riscalare casa devi far lavorare a pompa di calore a 60-65 gradi. Ecco, lì purtroppo quello che diremo tra poco non può funzionare perché lì devi mettere mano veramente all'impianto, come anche per le tubazioni che portano l'acqua tecnica dalla centrale termica verso i radiatori. Ecco, se queste sono sottodimensionate, se non sono state verificate correttamente, purtroppo devo dirti che bisogna mettere mano all'impianto idraulico. Ma mettendo da parte queste considerazioni fondamentali e monitorando negli anni migliaia di pompe di calore, ne ho viste veramente di tutti i colori, ecco, devo dire che mi sono abituato bene perché da sempre lavoro con pompe di calore monitorate online perché ti danno una serie di vantaggi enormi come ad esempio capire quanto consuma giorno per giorno, se si accende di giorno, di notte, impostare gli orari, le temperature proprio al decimo di grado. Possiamo anche naturalmente intervenire e verificare gli errori, le anomalie, insomma per essere molto veloci anche nella risoluzione dei problemi. Ecco, mi sono reso conto da subito e da questa è stata una filosofia fondamentale per noi, che era importante tenere bassa più possibile la temperatura dimandata all'impianto e far lavorare la pompa di calore soprattutto di giorno. Di giorno perché? Perché abbiamo temperature mediamente più alte rispetto alla notte. E naturalmente abbiamo anche l'apporto del fotovoltaico, ma questo lo lasciamo in disparte, facciamo finire che il fotovoltaico non esista. Ma in tutto questo non mi sono mai soffermato su capire conviene di più farla lavorare di giorno la pompa di calore o conviene di più abbassare la temperatura dimandata. Beh, su questo giorni fa ho fatto una bella chiacchierata con l'ingegner Paolo Savoia, di cui ti lascio il link in descrizione. È un progettista che ci mette il naso dappertutto, lui vuole capire veramente come funzionano le cose e per questo ci troviamo anche molto molto bene a dialogare. E lui ha fatto, con i calcoli precisi, ha fatto dei calcoli per definire quanto beneficio abbiamo dall'abbassare la temperatura dell'impianto e quanti benefici abbiamo invece facendo lavorare la pompa di calore con aria esterna più alta. E i risultati quali sono? I risultati sono che diminuendo di 10 gradi la temperatura dimandata all'impianto, riusciamo ad aumentare il COP, il COP, dal 15 al 20%, quindi in realtà andiamo a consumare questo 15-20% in meno. Ecco, prendila come ordine di grandezza. Questo ha parità di temperatura esterna, quindi fuori abbiamo 2 gradi. Se ai radiatori anziché mandare 60 gradi mando 50 gradi, ecco, aumento il COP dal 15 al 20% in più. Se anziché mandare a 40 gradi mando a 30 gradi sull'impianto a pavimento ho un 15-20% in più di COP, quindi riduco i consumi del pare valore. Sì, ma mi dirai, se abbasso la temperatura dei radiatori troppo o dell'impianto pavimento troppo non riesco a riscaldare casa. È naturale. Infatti per questo ti ho chiesto dall'inizio, qualcuno ti ha fatto un'analisi, una pre-analisi per capire come lavorare e far interfacciare al meglio la pompa di calore nel tuo impianto? Perché se ci accorgiamo che sui tuoi radiatori meno di 55 gradi non riusciamo a lavorare altrimenti non arrivi a 20-20 gradi in casa, naturalmente tutte queste considerazioni non sono valide. Quindi partendo dal presupposto che l'impianto è stato progettato bene, a parità di temperatura esterna, dobbiamo abbassare di 10 gradi la temperatura di mandata per avere un aumento di 15-20% del COP. L'altro caso invece è che a parità di temperatura di mandata faccio lavorare la pompa di calore con temperatura esterna più alta, quindi con 10 gradi in più. Cosa succede? In questo caso ho sempre almeno 15% in più di COP, fino ad arrivare addirittura al 30-32% di COP in più quando lavoro a temperature di mandata più basse, 35-40 gradi. Questo significa che è sempre garantito un risparmio far lavorare la pompa di calore di giovane. E stiamo parlando dal 15 al 30-32-33% di COP in più. Ecco io che sono molto pratico, ho voluto fare dei test per capire se effettivamente la teoria coincide con la pratica ed effettivamente è così. Abbiamo provato con una pompa di calore ad abbassare le temperature di mandata, abbiamo provato con altre pompe di calore a farle lavorare soprattutto di giorno ed effettivamente farle lavorare soprattutto di giorno portava a un risparmio maggiore. Ovvio che il connubio delle due cose fa proprio un matrimonio perfetto, quindi fa lavorare sia la pompa di calore di giorno che a temperature di mandata più basse. Naturalmente nel secondo caso non è detto che sia sempre possibile perché dipende dal tuo impianto, perché se i radiatori sono leggermente sottodimensionati oppure se il tuo impianto pavimento non riesce a lavorare a 28-29-30 gradi perché magari hai dei tappeti, hai degli armadi che coprono la superficie o comunque non riusciamo ad ottenere la potenza necessaria per riscaldare casa, naturalmente dobbiamo trovare dei compromessi. Ovvio che far lavorare la pompa di calore di giorno quello lo puoi sempre e comunque fare. Beh a questo punto mi chiederai ma Samuele io non so quando si accende la pompa di calore, non so che temperatura di mandata assolutamente lavora, non so se lavora di notte o di giorno. Eh lo so io mi sono abituato bene con il monitoraggio da remoto delle nostre pompe di calore e nel tuo caso posso aiutarti con Foxbox che è una centralina che monitora la tua pompa di calore di qualsiasi marca e ti permette di capire come sta funzionando e su questo agire. Quindi andai a fare queste piccole tarature fondamentali però per la tua bolletta elettrica. Grazie a tutti.